Io veramente da quanto all'era, dopo questo tempo, ho scelto di non commentare mai le decisioni degli abiti. Vorrei in qualche modo attenirmi a questo, ma in qualche modo vorrei spiegare anche la posizione, perché mi sono andato arrabbiato, perché mi sono arrabbiato lunedì in Lega con la riunione degli abiti. A me non dà fastidio, o meglio, accetto se c'è un misore tecnico, ci sta dal campo di sbagliare, ma io non accetto la diversità di comportamento sui determinati giocatori o rispetto ad altri. Nel senso che ci vuole uniformità. Se il giocatore viene buttato fuori perché al novantesimo lo giubilì ha torto a ragione, pensa di aver subito un torto e ti dice senza gesticolare, che cazzo fai così come sembra, scusate la modalità, quello che è successo, ma come di cazzo ci può stare. Si vedono tantissime immagini che ci sono giocatori che sul mondo ci sticolano, dicono cose magari anche più gravi. Io questa cosa non riesco ad accettarla. Sono anche molto amareggiato di questo, deluso, perché sono costretto a diventare visione, ma non bisogna rispogarmelo. Detto agli abiti, naturalmente la direzione è questa, perché ci hanno detto che non si può prendere l'arbitro, anche se credo, perché come di calcio ormai gli abiti sono paritari così come noi, non si possa anche far finta di nulla se non è a livello più chiaro. Grazie.